buongiorno a tutti cari amici benvenuti alla puntata di oggi di 58 seconds e view la mia rubrica quotidiana in cui come sapete vi racconto degli album che più mi hanno colpito come sempre vi chiedo la gentilezza se vi piace il format ed iscrivervi al canale youtube e mettere mi piace le recensioni che vi piacciono e se vi va di commentare anche voi grazie grazie davvero oggi ho scelto per voi un album pubblicato dalla alfa music l'etichetta romana abbiamo parlato molte volte il titolo del disco è between ed è stato realizzato dal quartetto di vittorio cuculo teoria cuculo è un bravissimo sassofonista sono il contralto direi che spacca abbastanza quando suona che il suo quartetto anche il disco propone dei brani che sono quasi tutti versioni alternative di grandi standard e classici conosciuti o meno quindi invocati di monk per dire oppure un brano di roberto spadoni un brano di enrico pierre annunzi e così via il quartetto si muove sulle live in l'alba con tempi velocissimi tecniche pazzesche quindi un album che sicuramente è divertente da ascoltare vi consiglio ciao